Però non potevo andare via a sentarmi grazie a tutti i loro, siete venuti tantissimi parmi, io sento tantissimo odore qua e penso che Miguel è uno che ha vissuto con la voglia di vivere con tutti quelli che avevano fatto a lui fare le migliori persone, con i suoi ragazzi e le sue ragazze, perché eravamo a nessuno, lui mi sentiva così, mi sentiva che era un po' poi vostro amore, il suo stato, cioè era sempre contento di lavorare con lui, mi piaceva tantissimo venire qua a parlare con tutti i suoi compagni, si provava a espandere la, non so, la buona energia, era un momento che si può sempre imparare, che si può sempre parare qualsiasi cosa, anche cantare, Però non so, la buona domanda, che adesso non dobbiamo andare a vivere senza salute, spero abbia ragione, spero, magari qualche giorno, perché noi litigliavano sempre che siamo volessi a fare, litigliavano perché quale era una donna, un bianco, un bianco, un bianco, un palavo fino al finito, finché uno di voi doveva dire a me e aveva ragione. Ave, spero che un giorno, un po' di dire, avevi ragione, perché si impara anche questo. Vi ringrazio a tutti molto, vorrei ringraziare tutti i miei bambini, grazie. A tutti quelli che sono venuti con i miei figli, vi ringrazio che vengono sempre, perché so che loro hanno bisogno di essere un po' di dire e faremo il nostro meglio. E niente, basta, vi ringrazio tanto. Grazie.